Buongiorno a tutti voi ragazzi, studenti, studentesse. Devo dire quasi con emozione mi trovo a fare questa comunicazione a tutti voi, a questa lezione, perché stiamo affrontando un periodo straordinariamente complicato, ma credo proprio per darvi la possibilità di chiudere un anno accademico che sta seguendo un iter molto particolare. Oggi ci stiamo basando sull'informatizzazione di tutto quello che cerchiamo di fare anche in valori dello sport che molto probabilmente devono essere pratici e non solo teorici. Bene, voi siete i componenti del corso A e B che sono praticamente legati agli sport di squadra. Devo dire un grande lavoro fatto con i miei colleghi che sono il dottor Camolese, che tutti conoscete, il professor Capuzzo, la professoressa Caire, il professor Lissiotto, e stiamo cercando di operare in funzione di permettervi di chiudere un anno accademico cercando di fare un'esperienza formativa il più utile possibile. Cosa dire? Oggi, vi ho già detto, è un momento storico. Avevamo programmato di poter fare insieme le uscite didattiche cercando di andare a visionare l'opportunità di vedere in pratica i movimenti, gli atteggiamenti con atlete evolute della squadra di Serie A del Custorino. Era già tutto programmato. Purtroppo questo non ci è permesso. Avevamo pensato, perché ormai era diventata una cosa interessante anche a livello proprio formativo, e con gli organi accademici. C'era stato molto interesse di creare un torneo finale che mettesse insieme tutti i corsi e questo sperimentalmente era già stato fatto per due anni. Devo dire che si stava evolvendo molto bene e nella nostra testa c'era anche l'idea di creare poi un momento finale non solo della pallavolo, ma mettendo insieme gli sport di squadra. E questo poteva essere veramente un po', lasciatemi dire, all'americana, dove dopo la formazione c'era anche un momento pratico e lasciatemi dire anche gogliardico per chiudere un anno accademico di formazione. Cosa dire? Oggi tutto è stravolto e cerco di poter portare avanti questa chiusura che anche per me è molto strana. Devo dire che è una rivoluzione epocale e mi auguro che sia solo una sperimentazione, sia solo legata al momento. Sono sempre più convinto che la nostra peculiarità era proprio l'attività pratica, stare a contatto con l'impianto sportivo, il contatto con lo sport, dove si creavano le condizioni di un'esperienza attiva. Cosa dire? Rimango perplesso nel pensare che a tutti voi non sarà concessa la possibilità di fare questa prova pratica, perciò sarete orfani di questo pezzo fondamentale della vostra preparazione. E in questo mi auguro che sia solo temporaneo, perché sia possibile nel terzo anno di poter invece ritornare a un'attività pratica. Mi permetto di dire che sarà con me e cercheranno di qualificare questo tempo un personaggio molto importante della pallavolo che è stato con me in tutta la prima fase, che è il grande allenatore Chiappafreddo, che è l'allenatore della squadra di Serie A del Custodino femminile, ma è che è stato un grandissimo personaggio della pallavolo italiano a livello giovanile, che conosce perfettamente le tematiche legate al percorso di inizio dei fondamentali della pallavolo ad arrivare alla specializzazione. Questo è interessante, interessante per voi, perché ripeto che questa vostra esperienza nella scuola di scienze motorie deve essere poi un'opportunità di formazione in funzione di poter applicare, lasciatemi dire, dall'oratorio alla Serie A l'opportunità anche lavorativa. Molti di voi andranno a intraprendere carriere diverse e mi auguro che qualcuno si appassione alla pallavolo e che possa a caso mai continuare a creare le condizioni di un'evoluzione di questo sport che è straordinario. Naturalmente, quando vi ho detto, cercheremo di amplificare un po' l'esperienza, cercando di entrare nei dettagli delle fasce delle attività giovanili con le attività avanzate. Sono procedure completamente diverse, con dei valori completamente diversi, ma che devono essere fatte in maniera conseguenziale per dare l'opportunità di crescita. A volte, purtroppo, la specializzazione è uno dei problemi più grossi dello sport e comunque anche della formazione di chi comincia a praticare di sport di squadra. In questo ci ho sempre creduto. Io sono un docente che nasce dallo sport singolo e ho fatto sempre l'atletica leggera. Oggi mi rendo conto che lo sport di squadra ha delle componenti psicologiche completamente diverse e in questo devo dire che consiglio sempre anche ai ragazzini di fare sicuramente esperienze di sport singoli ma fondamentali di squadra. E in questo noi abbiamo l'opportunità grazie a Chiappafreddo di poter sapere le varie sfaccettature e in questo senso vi chiedo di seguirlo in maniera seria perché queste opportunità a volte non sono così facili da cogliere. Cosa dire? Lo sport di squadra oggi ci insegna dei valori che a volte sottostimiamo. Il valore di gruppo, il valore dello spogliatoio, gli obiettivi, la personalità e in questo senso la pallavolo nonostante non sia uno sport di contatto racchiude in sé un po' tutti questi valori. È anche molto interessante la specifica sul carattere di chi si avvicina alla pallavolo anche di alto livello perché nonostante tutto oggi è uno sport che si è elevato molto pensate anche a livello femminile questa evoluzione straordinaria che c'è stata dove ci sono degli atleti che singolarmente fanno la differenza mentre fondamentalmente poi è la squadra che vince e anche qui mettiamo le basi per poter creare le condizioni anche di test che possono aiutare il giovane a intraprendere una carriera sportiva legata allo sport di pallavolo perché ancora oggi credo che nello sport italiano ci sia una dispersione di talenti straordinaria e comunque sono convinto che una buona applicazione una buona spiegazione un buon insegnamento può creare le motivazioni per avviarsi alla pallavolo casamai in sfaccettature come l'essere un giudice oppure altro tipo di operatività all'interno di una squadra di pallavolo ma fondamentalmente è un messaggio che dico a volte non ci preoccupiamo mai di formare dei dirigenti e sono convinto che invece queste esperienze che sembrano legate prettamente solo allo sport hanno questa caratteristica di creare una formazione multilaterale che a volte viene utilizzata anche nel mondo del lavoro e questo dobbiamo sapere che sarà sempre più fondamentale è per questo che voglio continuare a creare le motivazioni i ragazzi come voi che sono il futuro il futuro dell'insegnamento sportivo l'in futuro dell'insegnamento all'interno del mondo della scuola il futuro delle nuove strategie e adattamenti che dovremo avere dopo questo periodo in cui il virus il coronavirus ha cambiato le regole ha cambiato la possibilità di creare eventi sportivi di creare lasciatemi dire anche solo il corso di avviamento alla pallavolo giovanile fatto di 30-40 elementi molto probabilmente non sarà più possibile e come potremo continuare a operare per questo sport o per gli sport di squadra e beh questo dovremo aspettare di avere delle regole delle regole che non sono dettate da noi sicuramente dalla politica però il nostro lavoro deve essere fatto in maniera che il politico sappia dell'importanza di non abbandono di alcune attività sportive di alcuni processi formativi grazie allo sport perciò spero che anche da questo nostro lavoro vi si possa dare delle indicazioni a creare le condizioni anche di creatività e sta a voi voi siete i giovani siete il futuro e oggi con le nozioni che avete acquisito in questo percorso di scienze motorie dovete cominciare a immaginare una creatività innovativa lo siamo stati noi ai nostri tempi quando abbiamo cominciato a lavorare come personal abbiamo cominciato a operare nel mondo delle palestre in maniera completamente diversa cercando di creare anche con attrezzature diverse oggi sta a voi creare le condizioni per creare attività sportive anche di gruppo anche legate ai nostri sport che possano facilitare l'avviamento e possano condurre i giovani a proseguire l'attività fino a diventare anche dei grandi campioni sapendo che comunque alla fine lo sport è fondamentale per la qualità della vita degli studenti degli studenti universitari di tutte delle persone ma fondamentalmente è essenziale per la formazione delle persone e noi siamo degli esperti in questo e dovremo diventarlo sempre di più sperando che un domani anche la sanità si accorga che la nostra professionalità le nostre capacità possano essere messe in campo da professionisti perché non sono sempre più convinto che un medico non può prescrivere l'attività fisica sportiva non può prescrivere il gioco di squadra non può prescrivere chi potrà realizzarlo saremo noi e noi dobbiamo essere pronti ad affrontare anche questa sfida io spero di avervi coinvolto ma mi auguro che Chiappa Freddo possa approfondire le tematiche legate proprio alla pallavolo bene naturalmente con Chiappa Freddo abbiamo fatto un progetto un programma dettagliato andremo a toccare le caratteristiche tecniche della pallavolo le componenti fisiche della pallavolo sia giovanile che assoluto come poter allenare i vari ruoli della pallavolo che si comincia già dall'attività giovanile cercando di andare ad analizzare le caratteristiche di chi si avvicina alla pallavolo per arrivare poi ad avere una specifica attitudine individuare insomma queste figure nel settore giovanile è fondamentale perché poi alla fine credo che il ruolo all'interno di un gruppo caratterizza anche l'esperienza che si fa all'interno dello sport della pallavolo e sono convinto che la passione nasce lì bene a conclusione di questo pur parler con voi a tutti voi ragazzi e ragazze prima di lasciarvi all'allenatore della prima squadra del Custorino Chiappa Freddo che tanto bene stava facendo in campionato voglio davvero salutarvi salutarvi tutti sicuramente è stato un anno complicato per voi spero davvero che questo ultimo periodo invece abbiate tutte le soddisfazioni per finire un anno accademico nelle migliori condizioni sicuri che insomma da parte mia sono ancora disponibile per qualsiasi consiglio e davvero vi auguro tanto di chiudere questo anno accademico ma poi un'estate molto più serena che possiate mettere in pratica le esperienze formative che avete fatto vi consiglio davvero di poter creare le condizioni di fare esperienze in maniera che vi rimangano sicuramente ci incontreremo al terzo anno e cosa dire auguri a tutti voi una buona estate e un abbraccio davvero a tutti voi ciao a tutti ciao a tutti